Ueeh, bella! Tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi è l'ultimo giorno di vacanze ragazzi Siamo arrivati all'ultima puntata di questa serie estiva che ho voluto creare per voi Per tenervi sempre lì, sempre lì sul canale ragazzi Abbiamo visto 9 deck da usare con Log Rider ragazzi E oggi è il momento invece di vedere l'ultimo che non è quello che stavate vedendo Ovviamente quello lì è quello di ieri ragazzi Il deck che vi voglio proporre oggi è questo qui ragazzi Un altro deck come quello di ieri secondo me che funziona molto bene nelle challenge Boscaiolo, Fuorilegge, Fireball e Baby Dragon Le prime 4 carte che lo vanno, scusate, a comporre Pipistrelli, Mago Zap, Hog Rider e Zap Per le ultime 4 carte ragazzi Qua come ovviamente noterete anche voi Log Rider è il push principale che può essere però aiutato Sia dal Drago che dai Pipistrelli qualora noi avessimo 8 di mana o 6 di mana Mentre Boscaiolo e Fuorilegge Allora Fuorilegge la giochiamo o come distrazione centrale dalla nostra parte O come push insieme ad esempio a un Baby Dragon o a un Mago Zap Non insieme a Log Rider perché è molto pericoloso Se lui gioca ad esempio un'orda di Pipistrelli, un'orda di Scheletri Un'orda di Gomi, qualsiasi orda, qualsiasi truppo a multipla Andrebbe veramente male Anche una Valkyria ci danneggerebbe Il Mago Zap invece lo mettiamo dietro, il Mago Zap, Zap, Zap Tirale, Zap, Zap, Zap Lo mettiamo invece dietro, sempre a protezione del Log Rider Il Boscaiolo sarebbe veramente utile se riuscissimo ad usarlo Per sfruttare al massimo la sua furia Andiamo subito ragazzi in un'altra sfida Andiamo a provarlo, vediamo se funziona bene Siamo contro Troop X Pad degli Hukai United Kingdom Ciao, hello Allora, apriamo a 10 di mana Con un Drago molto tranquillo dietro Vediamo come ci vuole rispondere lui Se non fa nulla Andiamo con la fuorilegge sul ponte Vediamo un po' se entra la giocata Drago anche per lui Ma la fuorilegge entra senza difficoltà Lasciamo pure che il Drago si bruci la sua gang E addirittura può colpire il suo Drago Ok, fuorilegge anche per lui Andiamo con il Boscaiolo Andiamo tranquilli col Boscaiolo Mago Elettrico In questo momento che ci va Ci viene in aiuto E quindi insieme alla torre Tiriamo giù il Drago Ma lo Grider sotto l'effetto della furia Riesce ad arrivare fino a sotto la torre Ragazzi, andiamo a proteggerlo Dagli scheletrini e dalla strega Noi portiamo la torre a 7,74 Adesso abbiamo il Drago Volendo da giocare sulla strega O la Fireball Qualora lui giocasse qualcosa di strano No, mette il Drago anche lui Quindi potremmo fare Drago con Drago E Pipistrelli molto velocemente Finché il Drago resiste Guarda i Pipistrelli come se lo mangiano Guarda come se lo mangiano ragazzi Super Pipistrelli Super Pipistrelli Cattivissimi Che subiscono anche i danni Dà la possibilità al Drago Di tirare addirittura Una bomba di fuoco 641 La sua torre in alto a sinistra Inviolate Le mie torri in basso Quindi prepariamoci per il nuovo contrattacco O eventualmente per una difesa Qualora lui giocasse veloce No, non fa niente di strano Gioca semplicemente Una gang di Goblin Noi andiamo con uno stregone Zap E gioca l'arco ragazzi E gioca l'arco Quindi allora Andiamo a tirare una Fireball Sull'arco Insieme alla fuorilegge Viene colpito E il suo arco Praticamente non è arrivato Alla nostra torre Se non in questo momento Vediamo se riusciamo a difendere il mago Mamma mia questa fuorilegge davanti Questa fuorilegge davanti Un po' azzardata Ma riesce a loccare la torre Si butta A pesce proprio Tirandogli giù la torre Meravigliosa Questa giocata Questa fuorilegge Potentissima ragazzi Che riesce a incappare A tirare giù La sua torre di sinistra Vediamo se lui si è arreso addirittura O se decide di andare avanti No, no Gioca una strega Sulla destra Noi giochiamo un drago Invece sulla sinistra Ma a questo punto Andiamo con un mago Zap Dietro Sempre Sulla linea della strega E il drago infatti Può tranquillamente Colpire La sua orda Lui ha addirittura Giocato Il suo arco Quindi noi andiamo con Loggrader Andiamo a tirargli giù L'arco senza preoccuparcene troppo Secondo drago ragazzi Sulla destra Peccato che non si è salvato il primo Peccato che non si è salvato il primo Ma c'è Loggrader Che ha fatto parecchio male 2628 I secondi Alla fine Aspettiamoci il suo secondo arco Siamo ancora abbastanza Inviolati Quindi Boscaiolo davanti Ragazzi Mago Zap dietro Fuori legge centrale Spingiamo un po' noi Pipistrelli addirittura dietro E come vedete ragazzi La Zap A condire Tutte queste truppe Che stanno attaccando Boscaiolo rilascia la furia Che va esattamente Sul mago elettrico 9 secondi alla fine Mettiamo il Bosco Vediamo se riusciamo a chiuderla Inviolati Questa partita 4 3 2 Ah peccato per le frecce 1 E andiamo a chiudere anche Questo match ragazzi Come avete visto Anche questo deck Veramente veramente Molto figo Da giocare Nelle challenge Se qualcuno vuole Provarlo in ranked Assolutamente Se ha le carte Per andare in ranked Io non posso giocare con 2 Leggendari all'1 Quindi ragazzi Siamo arrivati alla fine Di questa serie Dedicata ai 10 deck Da usare Con Logrider Spero che abbiate preso Spunto Da quello che vi ho proposto Spero che abbiate apprezzato Il lavoro Che c'è stato dietro Io vi ricordo ragazzi Di lasciare un bel pollicione in su Di iscrivervi al canale E di essere già Pronti con i popcorn Perché se tutto va bene ragazzi Da domani Ricominceremo le nostre live Normali Io vi ringrazio tantissimo Per aver seguito Anche questo video Ciao